Morire in moto a 24 anni, cercando di raggiungere un sogno. Questa è la storia di Giovanni Feola, uno dei primi motociclisti italiani, soprannominato il diavolo, l'invincibile, poiché non aveva mai perso una gara prima del giorno della sua morte. Nacque nel 1909 ad Altaville Erpina e sin da bambino aveva una passione sconfinata per i motori, tant'è vero che convinse il padre a mandarlo a lavorare come garzone nel garage di un signorotto locale. Grazie solo ai suoi risparmi riuscì a comprarsi una Norton 350, una motocicletta che gli fece vincere i circuiti di Foggia, di Napoli e poi di Roma. La sua fama, ormai finita anche sui giornali nazionali, era immensa, poiché era considerato letteralmente invincibile, un esordiente capace di battere anche i campioni più bravi. Decise quindi nel 1933 di tentare la sfida più importante del motociclismo italiano, ovvero la Coppa Mussolini, Milano-Napoli. Il ragazzo non sapeva che quello sarebbe stato il suo ultimo viaggio in motocicletta. Il 24 aprile 1933, poco dopo la partenza nelle campagne della Lombardia, fu trovato il corpo senza vita di Giovanni Feola. Era stato probabilmente decapitato con una fune passata tra due alberi. Una morte tragica che però non avrà mai giustizia. Il suo ricordo infatti è conservato solamente nel Museo della Gente Senza Storia di Altaville Erpina, mentre la polizia all'epoca non riuscì mai a trovare il colpevole.